Marco Chiodi la prima è andata, un po' di spaventi alla fine come al solito anche se il 2-1 dava una sicurezza in più meritata, come abbiamo sentito anche altri detti ai lavori sui tribune oltre al doppio risultato ma si è meritata perché il Baranello ha giocato per vincere e ha vinto meritatamente Sì dai, io penso che sia stata una bella soddisfazione per i ragazzi, per il gruppo di lavoro penso che è una partita che abbiamo voluto portare a casa e ci è andata bene la squadra ha interpretato bene, soprattutto il primo tempo, concedendo poco e creando diverse occasioni da gol non l'abbiamo fatto e abbiamo sbagliato il rigore e quindi penso che sia legittimata la vittoria nei 90 penso che se c'è una squadra da vincere va a noi Sì, sul piano delle occasioni, adesso abbiamo visto le immagini, vediamo le immagini, insomma il rigore è sbagliato anche a occasioni magari sprecate dal Baranello, ha vinto sicuramente il Baranello la bravuta del chiudono secondo me è stata nel bloccare, Pietro Polino ha potuto giocare esterno ma nel bloccare Camarini esterni probabilmente conoscevano, loro conoscevano questo Baranello e hanno cercato di bloccare lì la partita, poi fare tanto volume al centrocampo Sì, poi il fatto di non esporci tra virgolette più di tanto, perché comunque è vero che abbiamo giocatori di certe caratteristiche però, come ho detto, siccome avevamo due risultati utili di non star lì poi a dare tanto campo dietro quindi Camarini è rimasto forse un po' più bloccato rispetto ad altre partite Pietro Polli per necessità ha giocato dietro la punta quindi la squadra è stata abbastanza compatta l'unica cosa forse è che nelle occasioni dovevamo essere forse più cattivi però insomma non si può avere tutto La contentezza di essere qua è tanta poi le partite queste sono troppo equilibrate quindi come potevamo lasciarci le penne oggi andremo sicuramente a Rovato a fare la nostra partita mettendo in campo le nostre qualità poi una partita di calcio se saremo bravi verremo a casa, contenti altrimenti sarà comunque stato un campionato sopra le righe e poi andremo a fare la nostra partita